Buon pomeriggio, siamo qui alla prima puntata di questo approfondimento per la Settimana Santa Trapanese. Oggi, come tutti i venerdì di quaresima, andremo a prepararci a quello che è il rito più per eccellenza della città di Trapani. Come vedete ci troviamo al Porto Peschereccio, che è il cuore pulsante, lavorativo ed economico nei secoli della nostra città di Trapani. Iniziamo questo ciclo di interviste parlando delle maestranze. Questo gruppo di giovani, meno giovani, di volontari, di passionati che stanno insieme per cercare di portare avanti, di organizzare, di preparare quello che è la processione dei misteri. E in particolar modo delle 20 maestranze che fanno parte del venerdì santo trapanese e oggi parleremo proprio del ceto dei pescatori. Abbiamo qui con noi il capoconsole del ceto, che è Antonino Carpitella, il ceto dei pescatori che accompagna e porta in processione il secondo sacro gruppo dei misteri, la lavanda dei piedi. Perché iniziamo con voi? Innanzitutto benvenuto Nino. Iniziamo con voi proprio perché il ceto dei pescatori ha un primato, ha dei primati, tra quelli il fatto di aver sostituito come primo gruppo, aver sostituito i portatori a pagamento con i portatori volontari. Raccontaci questa esperienza e questa iniziativa. Questa iniziativa è nata da una nostra volontà, specialmente da un signore, voglio nominare anche che è stato l'artefice, dare a Cesare quel che è di Cesare, il signor Giovanni Cimino. È venuto un giorno in associazione e ha detto ragazzi perché non proviamo a cambiare un po' le regole? Perché effettivamente ha visto in noi dei ragazzi volenterosi che non parlavamo mai di soldi. Evitiamo questo discorso, vediamo se riusciamo a fare un gruppo di volontari e fortunatamente nell'anno 2000, anno santo se vi ricordo, siamo riusciti per la prima volta, siamo stati l'unico gruppo a uscire e portare in processione il gruppo solo ed esclusivamente con volontari. E questo è molto bello anche perché oltre a fare questa novità, la finalità delle famose piccacce, che sarebbero le offerte che si fanno durante la processione ai vari ceti, i volontari hanno deciso di far che cosa? Noi di solito come tutti i gruppi raccogliamo le piccacce in processione, a queste raccolte pensano solo ed esclusivamente i volontari che poi loro decidono di darle in beneficenza. Qualche anno fa abbiamo messo un defibrillatore che poi abbiamo purtroppo qualcuno l'ha fregato, speriamo domani di rimetterlo al suo posto dove era. Anche se non c'eravamo, ce la facevamo, noi mettevamo sempre le mani in tasca per rinunciare lo nostro scopo. Noi partivamo con uno scopo in processione. Una cosa che mi piace in questi incontri che faremo ogni venerdì di quaresima è quello di sapere la tua esperienza, come mai ti sei avvicinato all'interno di questo ceto o comunque della processione dei misteri e da quanto tempo? La mia avvicinata al gruppo, non la mia ma di questo gruppo che tuttora ancora esiste, purtroppo è venuto a mancare il nostro capoconsole da poco, risale all'anno del 1996. Se vi ricordate tutti nel 1995 la proiezione dei misteri è entrata con la pioggia. È una delle poche volte perché a quei tempi non è che la maineria, il ceto dei pescatori aveva sempre la banda, sempre la proiezione. Ogni tanto quando si mettevano d'accordo i vari presidenti avevamo la banda, quell'anno avevamo la banda e la proiezione, perciò il capoconsole, il portatore doveva fare l'annacata. Ma purtroppo pioveva, c'era un'esigenza diversa anche di salvaguardare i gruppi. Abbiamo visto in televisione una teatriba, il gruppo posato per terra, quindi i vari presidenti di cooperativa e associazioni hanno deciso di cambiare rotta e ci hanno interpellato. E noi siamo stati ben volentieri, io ero già uno che in altri anni aveva anche collaborato, non in maniera fattiva, ma avevo già lavorato. E quindi abbiamo creato un bel gruppo che tuttora esiste e tuttora si migliora e tuttora fa sempre cose belle per la cittadinanza e per il popolo dei misteri. In tutti questi anni qualche anedoto, un anedoto in particolare che vi ha un po' colpito, è piaciuto, è gradito, cosa è successo di particolare? Mi ricordo, non so se era il 2017 o 2018, eravamo in via Torrearsa di fronte al negozio di Coral Point. Ad un tratto, mentre eravamo fra me, esce la figlia della titolare con un braccio di corallo. E dice, lo vogliamo regalare al signore in memoria di mia nonna, che è la nonna Francesca Crapanzano. Era una delle nostre collaboratrici, purtroppo anche lei è venuta a mancare prematuramente. E in memoria di allora io sono rimasto meravigliato perché nel nostro ceto, o meglio nel nostro gruppo di strada una cosa simile non era mai successa. Ho sentito che è successo sia nel Madonna che nel popolo. Ma a noi ci ha fatto un immenso piacere, siamo rimasti colpiti. Guarda, vedi, poteva benissimo portare, ha voluto dalle prestate dare un segno proprio tangibile che loro tuttora, nonostante non c'è più la nonna e la mamma, sono vicini al gruppo e tuttora lo sono. Sono dei gesti molto belli perché riapre un po' quello che è la devozione comunque dei singoli gruppi. Bene, concludiamo adesso con un momento particolare perché vedete il nostro capoconsole, a cui ringrazio della disponibilità, c'è in mano una ciaccola. La ciaccola è lo strumento, quello per eccellenza, che accompagna l'alzata e l'abbassata dei misteri. In particolar modo è lo strumento che diventa colonna sonora della famosa notte dei misteri. Perché la ciaccola? Perché vogliamo ricordare con questo suono, e chiudiamo qui la nostra intervista, proprio il capoconsole del ceto dei pescatori, Nino Ritondo, che purtroppo lo scorso mese di aprile, all'età di 52 anni, per un mare improvviso non c'è più. Quindi ciao Nino e buon pomeriggio a tutti.